Il PD, perché questo ricorso è firmato anche dalla senatrice Cirinna, siccome non riesce a liberarsi di noi politicamente, non riesce a fronteggiarci politicamente, allora ricorre a Mezzucci da tribunale per provare a colpirci. Io non credo che ci riusciranno e poi rispetteremo tutte le sentenze che ci saranno, ma sono molto fiducioso.